Seconda parte del TG Rosso Blu, quella dedicata all'approfondimento e quest'oggi parliamo di nuoto perché si è svolto il 10 di febbraio nella piscina del villaggio del Fanciullo, la sesta edizione del torfeo Stefano Penna. Insieme a noi ci sono il presidente del nuoto Sprint Borgo Marco Fantoni e un consigliere Alessandro Scanavaca. Con loro cerchiamo di approfondire questa tematica, cerchiamo di andare a scoprire uno a conoscere meglio chi era Penna perché è un personaggio che mi sembra almeno all'interno del mondo sportivo molto conosciuto e poi diciamo come si è svolta questa manifestazione. Marco Fantoni, se vuoi intanto illustrarci che cosa è successo domenica 10. Allora, domenica 10 c'è stata la sesta edizione del trofeo Stefano Penna, quest'anno al villaggio del Fanciullo. La sesta edizione ma purtroppo è stata solamente la quinta effettiva perché la quinta edizione era prevista il 2 di giugno e ovviamente con il terremoto del 29 di maggio l'abbiamo dovuta annullare. Hanno partecipato 5 squadre, bambini dai 3 ai 18 anni per un totale di circa 450 ragazzi come possiamo vedere magari anche nelle immagini, 5 squadre di Bologna provincia, l'arcoveggio di LF, la polisportiva Masi, il centro nuoto per Siceto, l'Aquatime di Cento e la società che organizzava che è appunto il nuoto Sprint Borgo. Allora, chi ha vinto ma ovviamente chi ha vinto è un po' come dire meno importante. L'importante credo sia stato un pomeriggio in cui si sono divertiti i ragazzi insomma. Sì, infatti la vincitrice di questa manifestazione è stata la società del centro nuoto per Siceto. Noi ci siamo difesi anche abbastanza bene perché siamo arrivati comunque secondi nella classifica. Però diciamo che l'importante è stato questo momento di aggregazione di diversi gruppi societari e all'interno di questa manifestazione anche gli allenatori hanno dato il loro contributo perché c'è stato un momento di gara anche goliardico da parte degli allenatori e c'è stato anche un gruppo di genitori appartenenti alle diverse società che hanno partecipato con una loro gara chiaramente non competitiva. Quindi hanno fatto staffette magari a miste, non so, maschi e femminili insieme, anche qualcosa di questo tipo. Staffette miste e il criterio della gara staffette è quello che più dà il senso di aggregazione e di spirito, di comunità. Anche perché per una volta non sono i genitori a fare il tifo per i bambini ma sono i bambini a fare il tifo per i genitori. Insomma credo che sia molto carino, no? È stato esattamente così. C'era un gran tifo da parte dei figli o degli amici dei figli per i genitori che hanno partecipato. Abbiamo visto anche le tribune piene del villaggio ed è una bella tribuna. Vuole dire che comunque la partecipazione è anche un po' esterna, come dicevi tu, tante persone al di là di chi ha nuotato. È stato un modo per conoscere ancora meglio questo mondo del nuoto? Sì, sicuramente, sono d'accordo. È stato piacevole vedere la gran massa di gente che si è recata al villaggio del Fanciullo. Io la vedevo da una prospettiva diversa perché sono anche giudice del nuoto quindi avevo una prospettiva diversa, vedevo un po' dietro di me la gente che si accalcava, che faceva il tifo. Approfitto, se possibile, per anche ringraziare il gruppo GAN, il giudice arbitri nuoto che hanno, come al solito, dato la loro massima affidabilità nella prestazione di giudicare gli atleti. Allora, mentre continuano a passare le immagini, Marco, ci vuoi ricordare chi era Stefano Penna? Sì, Stefano Penna era uno sportivo, ormai non si può dire più giovane perché era del 64, un ragazzo bolognese che ha dato tanto per quanto riguarda lo sport. Era un campione di judo ma poi ha giocato nella Malpighi di basket, ha fondato una squadra di calcio della Jacobi Sport Time e diciamo che si è cimentato in tantissimi sport diversi, sempre a livello amatoriale, ma cercando sempre di portare un messaggio positivo e portare la sua attività poi per far crescere i bambini con lo sport e soprattutto educarli. Perché un trofeo Stefano Penna? Perché all'interno del nuoto Springborgo sono passati 4 dei 5 figli di Stefano che purtroppo ci ha lasciato 6 anni fa in un incidente stradale. Per cui avendo quasi tutti i suoi figli all'interno della società abbiamo deciso di ricordarlo in questo modo. Come diceva Alessandro prima, la formula della gara, come si può vedere poi anche dalle immagini, è tutta a staffette, fra l'altro con uno staffettone finale in cui nuotano insieme i bambini di 6 anni con i ragazzi di 18 e questo è per dare appunto lo spirito al di là della competizione che non è il motivo principale di questa gara, oserei dire, dare appunto quello spirito di gioco di squadra e di stare insieme che appunto a Stefano stava tanto a cuore. Non so chi dei due, se qualcuno mi vuole raccontare la vostra attività della vostra società sportiva. Allora il nuoto Springborgo è una piccola società di nuoto che però ormai è abbastanza storica perché ha quasi 40 anni, opera all'interno della piscina di Borgo Penigale, del Biancolelli e oggi abbiamo all'incirca 80 atleti, 80 ragazzi, ci occupiamo esclusivamente di nuoto agonistico con l'accezione agonistica che cambia ovviamente a seconda dell'età dei bambini perché a 6 anni è ancora molto un avviamento all'agonismo. Quindi non c'è scuola nuoto? No, abbiamo un corso leve che diciamo prende, in realtà è praticamente una scuola nuoto nel senso che è l'interfaccia tra i corsi di nuoto per bambini e l'attività agonistica. Quindi c'è questo passaggio intermedio che viene svolto da dei nostri allenatori in collaborazione con il centro nuoto a Borgo Penigale per poi passarli a un'attività di tipo agonistico che ripeto a 6 anni soprattutto in una società piccola come la nostra è un avviamento all'agonismo anche perché la federazione permette di fare gare solamente dagli 8 anni per cui 6-7 anni si fanno delle attività a livello WISP proprio per far imparare ai bambini la disciplina fargli capire che cosa è una gara, il rispetto dei giudici, il rispetto delle regole e comunque farli allenare e soprattutto farli imparare a nuotare come si deve. Abbiamo visto anche nelle premiazioni il delegato del CONI, il nuovo delegato Lolli insomma che quindi ha anche una forma istituzionale nel CONI ecco comunque. Sì infatti il trofeo fin dalla prima edizione ha goduto del patrocinio sia del Comune di Bologna che della provincia che del CONI, fino all'anno scorso era il patrocino del CONI provinciale poi come sappiamo il CONI provinciale non esiste più per cui da quest'anno abbiamo avuto comunque il patrocino del CONI regionale e il delegato provinciale Rino Lolli è venuto appunto alle premiazioni. Allora siamo arrivati quasi in fondo, io chiederei invece ad Alessandro ecco tu sei stato coinvolto non da tanto all'interno di una società sportiva ecco insomma normalmente questa figura di dirigente volontario sta pian pianino scomparendo ecco invece come ti sei assunto insomma quanto tempo dedichi a questa attività ecco di genitore che fa anche il dirigente. Io sono stato eletto insieme a nuovi altri consiglieri recentemente e chiaramente frequentavamo già il circolo perché i nostri figli fanno parte della squadra agonistica e il tempo dedicato sì in realtà non è tantissimo però ci sono dei momenti particolari magari proprio scalettati in cui bisogna dare un po' più di disponibilità. Chiaramente ognuno di noi ha le sue attività, il suo lavoro e tanti altri impegni anche familiari però si cerca sempre con il sorriso di conciliare il tutto e di darsi una mano a vicenda. Allora chiudiamo dando o numeri di telefono, o sito internet, insomma come possiamo trovarvi chi vuole venirevi a trovare, chi vuole conoscere meglio la vostra società sportiva come fa? Allora la sede è presso la piscina Biancolelli in via Biancolelli 36 il mezzo più semplice è il sito internet che è www.nuotosprintborgo.it con la mail segreteria-nuotosprintborgo.it oppure su facebook dove si trovano tutte le foto e i video della nostra attività. A inizio stagione ma anche durante la stagione c'è la possibilità tranquillamente di venire a vedere di venire a provare perché essendo una società piccola dove poi magari quelli un po' più bravini vanno avanti ma tutti si divertono, l'importante per noi è che i ragazzi crescano imparando a nuotare ma crescano e si educhino attraverso lo sport. Grazie, grazie molte a Marco Fantoni e ad Alessandro Scanavaca noi chiudiamo la puntata di oggi del Tg Rosso Blu l'appuntamento torna domani, sembra partire dalle 18.30 di oggi del Tg Rosso Blu